e salve a tutti allora io sono marco sciaccaluga e faccio il regista occasionalmente l'attore da troppi anni ha cominciato che ne avevo 19 oggi ne ho 66 diciamo che la mia vita è quella del teatro nazionale di genova coincidono quasi completamente e in questa epoca calamitosa in cui teatri sono chiusi dal mio piccolo contributo per tenere aperto un dialogo con voi con gli spettatori con i curiosi e ho pensato che forse la cosa migliore fosse quella di raccontarvi qualche storia di teatro che mi ha particolarmente colpito sia nel racconto di altri direi soprattutto nel racconto di altri e anche poi nelle mie esperienze personali dunque i teatri sono chiusi come tante altre attività del paese e allora quella che vi voglio raccontare oggi è una storia estrema ed è la storia della riapertura di un teatro è la ragione per cui questa piccola rubrica e comiamola come volete volevo intitolarla c'era una volta il teatro invece mi sembra più più carino e significativo passare dall'imperfetto al futuro e dire ci sarà una volta il teatro perché il teatro riaprirà un giorno i suoi sipari e questo sarà un magnifico giorno per tutti noi per il teatro per gli attori per chi crede in quest'arte antica allora la storia di oggi ha come protagonista un grande regista tedesco wolfgang langhof ebreo il quale riuscì insieme alla sua famiglia a scappare in tempo dalla germania durante le persecuzioni naziste e si rifugiò in svizzera appena seppe che berlino era stata liberata parliamo dei primi di maggio del 1945 dall'armata rossa non esitò neanche un attimo e prese la famiglia in una maniera piuttosto avventurosa raggiunse berlino ma questo subito verso la seconda metà di maggio voleva vedere in che stato era la sua città voleva vedere in che stato era il teatro che aveva diretto prima della fuga il deutsche theater magnifico teatro berlinese che esiste ancora oggi potete immaginare cosa trovò a berlino in quei giorni viaggiò con la sua moglie magdalena i suoi due figli thomas e mattias che sarebbero poi diventati due importantissimi registi che hanno segnato in parte significativa della storia del teatro europeo ebbene arriva a berlino e trova la devastazione trova le persone che si aggirano come lupi fra le macerie in cerca di cibo tutti episodi che la storia ci ha raccontato su cui non sarà il caso di soffermarsi arriva e trova il deutsche theater non completamente distrutto dai bombardamenti in uno stato diciamo abbastanza analogo a quello in cui era il nostro carlo felice dopo i bombardamenti mancava il tetto o parte del tetto il palcoscenico era quasi intatto così la platea piena di detriti e il suo scopo il suo sogno era di riaprire il teatro più presto possibile mise a vivere pensate che cosa straordinaria e quale messaggio di speranza contiene questa vicenda mise a vivere la sua famiglia i suoi figlioletti dentro due palchi tirando delle tende mettendo dei lettini e poi si operò e si adoperò per sgomberare le macerie insomma per farvela breve nel giro di due mesi riuscì a riaprire il teatro cioè siamo ai primi di luglio la metà di luglio del 1945 e il deutsche theater riapre per il pubblico i suoi battenti una storia estrema una storia straordinaria e che contiene all'interno un episodio ancora più commovente se volete sua moglie magdalena era la prima attrice della sua compagnia e dopo la catastrofe della guerra le persecuzioni la shoah riteneva di non voler più recitare le sembrava che fare un mestiere per il quale era necessario fingere fa fosse fingere il dolore fingere le passioni e quando milioni di persone quei dolori quelle passioni e quelle devastazioni le avevano veramente vissute le pareva blasfemo le pareva inaudito e si rifiutava come è successo tanti altri attori uno dei quali per esempio era il grande attore olivudiano james stewart il quale era come forse sapete pilota d'aviazione durante la seconda guerra mondiale e dopo avere bombardato città europee la germania in particolare arrivata la pace non intendeva riprendere il suo lavoro di attore dove era già dove era già una star ci volle il grande attore inglese john berrymore a persuaderlo ea convincerlo che la sua missione la loro missione diciamo la nostra missione di artisti e di attori era quella di continuare a testimoniare la vita dell'uomo e di renderla utile al prossimo dalla società alla collettività magdalena dunque torniamo a berlino si rifiuta di recitare mentre il marito wolfgang langhof decide di mettere in scena niente meno che la ecuba di oripide una tragedia straordinaria con al centro la guerra di troia in cui si parla esplicitamente del dolore delle devastazioni di una guerra della prima grande guerra dell'occidente della storia dell'occidente che diventava chiaramente una metafora di tutte le guerre e in particolare della guerra che si era tragicamente appena conclusa magdalena avrebbe dovuto riuscire a recu ma si rifiutò e e la parte la fece un'altra attrice della compagnia e c'erano le prove a queste prove assisteva una donna delle pulizie la quale era una signora convintamente nazista che era andata a cercare lavoro aveva perso durante la guerra il marito e tre figli e wolfgang langhof anche davanti alla sua esplicita dichiarazione che non aveva minimamente inclinato la sua fede nazista magdalena ebbe generosa pena per questa donna e la assunse come donna delle pulizie questa donna si chiamava greta allora greta è lì in platea che che pulisce pulisce i camerini pulisce i palchi e sempre più incuriosita dal lavoro delle prove ogni tanto interrompe il suo lavoro per guardarlo e magdalena è incuriosita da questa persona verso la quale naturalmente ha un rapporto di forte diffidenza per ovvie ragioni e un giorno le chiede ma perché scuoti sempre la testa perché perché c'è qualcosa che non ti convince in quello che vedi e greta le dice nella sua nella sua anima semplice che non le piace ecuba dice no una madre il dolore di una madre non è quello il dolore di una madre è altro non si soffre in quel modo non si soffre urlando strappandosi capelli la sofferenza è qualcosa di più di più profondo non sapeva esprimersi naturalmente con parole troppo raffinate ma magdalena viene colpita da questo le viene in mente una bellissima lettera di ceco fa la moglie olga quando stanno provando tre sorelle e ceco scrive alla moglie curioso scriversi fra marito e moglie ho visto una prova di tre sorelle ma insomma cos'è tutto quel lacrimare io le ho viste le persone addolorate le persone addolorate hanno hanno un'espressione di infinito stupore sul volto e allora timidamente va da suo marito va da wolfgang e gli dice e gli dice senti io vorrei vorrei recitare questa cosa la vorrei dedicare a greta e wolfgang prende la palla al balzo convince l'altra attrice a rinunciare e magdalena torna alla finzione del teatro per questa sua privilegiata spettatrice e lo spettacolo va poi in scena nella berlino ancora devastata ed è il primo spettacolo che viene recitato al deutsche theater nel dopoguerra il teatro poi troverà la sua fortuna la sua ricostruzione la germania tornerà ad essere il meraviglioso paese colto e civile che è sempre stato e che è fortunatamente nuovamente oggi e questa storia mi ha sempre molto colpito molto colpito perché ci parla di come un lavoro che si fonda sulla finzione sul far finta di essere un altro sul far finta di provare le passioni le emozioni nella fattispecie il dolore di un altro non è un gesto blasfemo ma diventa un gesto sacro perché ci parla della vita del nostro prossimo ci parla della sua esperienza testimonia l'uomo e la vita come forse nessun'altra forma d'arte riescono a testimoniare ecco qua alla prossima storia e ciao a tutti